Una stagione da incorniciare per la stagione turistica aquilana con incrementi delle presenze che è già possibile stimare in un 30% in più rispetto al 2014, incrociando i dati dei pernottamenti alberghieri con quello del Welcome Point di Piazza Duomo, tappa obbligata per chi viene a visitare l'Aquila. A renderlo noto un soddisfatto assessore comunale Lelio De Santis, all'indomani dello straordinario successo del Festival Jets di domenica scorsa che ha fatto registrare 30.000 presenze. Spulcendo i dati registrati dal Welcome Point, risulta che a giugno e luglio, quando il punto informativo era aperto solo nei weekend, i contatti sono stati 235-880, che equivalgono, visto che i contatti si riferiscono anche a famiglie e comitive, a 3.100 persone. Ad agosto, con il Welcome Point aperto tutto il giorno, i contatti sono stati 5.760, equivalenti a 15.000-20.000 persone. A settembre si è già 15.000 persone, il totale estivo è insomma di circa 35.000. E quello che più conta, facendo un confronto con i contatti del Welcome Point del 2014, si registra un incremento del 30%. In aumento anche gli stranieri, soprattutto francesi e olandesi, interessati non solo alla città, ma anche al territorio, al Gran Sasso, all'area Parco e ai borghi montani. E le mete più gettonate sono Santo Stefan di Sessanio, Fontecchio, le Grotte di Stife, Bominaco e l'area archeologica di Fossa. C'è ancora da lavorare a Mette Prode Santis, in molti, troppi casi, si tratta di turismo mordi e fuggi. Bisogna dunque puntare su una promozione mirata alla creazione di un'offerta turistica che garantisca presenze più di lunga durata.